Il partito pirata nasce in Svezia nel 2006. In pochi anni abbiamo conquistato diverse nazioni europee, dall'Islanda alla Germania, dalla Repubblica Ceca al Lussemburgo. Per la prima volta quest'anno ci presentiamo anche in Italia. Ci presentiamo in Italia con un unico programma condiviso fra tutti i Pirati Europei. 11 nazioni, un solo programma. Un programma che parla di futuro. Parla di futuro e non di presente. Parla dei diritti digitali, parla dei diritti civili, parla della trasparenza nella pubblica amministrazione, parla di tutto quello che deve essere il futuro, dall'ecologia ai viaggi nello spazio.